Dei mandanti di quella violenza, facciamolo! Facciamolo dimostrando loro che c'è un esercito di persone che vuole e chiede ciò che più temono, il cambiamento, cambiare! Noi dobbiamo cambiare, noi possiamo cambiare! Facciamolo dedicando tempo agli altri, facciamolo frequentando, sostenendo e difendendo i santuari per animali liberi! Adesso tocca a noi lottare tutte insieme per Pumba, per Dorothy, per Spino, per Ursula, per Bartolomeo, per Carolina, per Mercoledì, per Prusca, per Costa! Tocca a noi lottare tutte insieme per ogni essere vivente! Tocca a noi lottare tutte insieme per difendere i santuari! Tocca a noi lottare tutte insieme per tutte e tutti noi! Tocca a noi perché non ci sia più un 20 settembre! Perché anche con la corta la speranza non ce la toglieranno mai! Perché noi oggi qui, noi oggi qui, siamo tutti cuori liberi! Puori 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 liberi!